Avete mai visto un'orca? Ci sono delle differenze con l'orca. Non so se le notate. Questa è un'orca che vive allo stato brave, questa è un'orca che vive in cattività. Notate la differenza? La pinna moscia, definiamola così. Che cos'è che comporta l'afflosciarsi della pinna? L'habitat. In cattività, nonostante queste orche valgono per un parco acquatico, quindi dietro ci sono biologi marini che le seguono, nutrizionisti che le seguono, allenatori che le fanno allenare, un preparatore atletico, un personal trainer, uno chef, un nutrizionista per l'orca, non riescono a far drizzare la pinna. Come mai non ci riescono? Perché l'unico modo per quell'orca per far sì che la pinna sia dritta è quello di nuotare in mare aperto. Siccome madre natura non si è mai posta il problema che un'orca non facesse l'orca, quella pinna è fatta di cartilagine, non ci ha messo dei muscoli, non ci ha messo un tessuto osseo, che costa energia in natura. Dice l'orca fa l'orca e quindi attraverso l'attrito con l'acqua, le forze in gioco, quella pinna resta dritta. Non abbiamo strumenti se non quelli di rimettere l'orca a vivere da orca.